Dampir, il figlio del diavolo. Parliamo insieme del primo film della Bonelli Entertainment. Wabalabadabdabe bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica film in uscita e bentornati nella rubrica Bonelli, nella rubrica Dilan Dog e Bonelli, perché principalmente parlo di Dilan Dog, mai avrei pensato che queste due rubriche si sarebbero incrociate, ma finalmente il film di Dampir è uscito. Causa anche la pandemia, c'è stato un notevole ritardo, era stato annunciato, ricordo, a Luca Comics 2019 il Bonelli Cinematic Universe e adesso finalmente lo abbiamo visto insieme. È stato davvero una gioia poterlo vedere di nuovo a Luca in anteprima, appunto ho avuto anche il piacere di poterlo vedere in anteprima insieme a un sacco di colleghi, ero assieme per esempio, ero accanto a Luca DJ con cui ho visto il film, davanti a me c'era Recchioni, dietro di me c'era la Baraldi, sono stato davvero felice di condividere l'esperienza della prima in questo modo e come tutte le grosse esperienze ci insegna Spider-Man No Way Home, questa esperienza può anche essere, può anche influenzare diciamo il mio giudizio sul film di per sé. Cioè nonostante vi vado a raccontare un attimino tutti i pregi e i difetti che ho trovato in questa pellicola e le mie preoccupazioni anche per il futuro di questa saga. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che vi frega di condividere il video con tutte le persone che amano Dampier e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo film e se siete lettori del fumetto aiutatemi a capirlo meglio. Io non sono un lettore di Dampier, mi sono affacciato a questo film perché sono un lettore di Dylan Dog e spero che appunto le cose prima o poi arrivino a congiungersi in questo Bonelli Cinematic Universe. Però appunto l'ho apprezzato, principalmente l'ho apprezzato il film, spoiler di questo video, il film mi è piaciuto. Il film è un'opera prima di un regista italiano, Riccardo Chemello, con cui ho avuto anche il piacere di fare due chiacchiere proprio a Lucca, e devo dire che per essere un'opera prima ho trovato il film molto gradevole, ci sono delle inquadrature davvero ingegnose, altre ovviamente sono un po' più classiche, magari su altre avrei sperimentato di più, adesso faccio un po' il tizio che guarda la partita a casa e si improvvisa allenatore, no? Ecco, alcune inquadrature magari le avrei fatte diverse, avrei fatto un paio di primo piani in più su dove in realtà c'erano dei campi medi, ma diciamo che grosso modo l'ho trovato anche molto innovativo per essere un'opera prima, un'opera prima di un'italiana, di un italiano, perché c'è anche il grosso problema, la grossa spada di Damocle, che quando si fa un film in Italia, quando si fa un bel film in Italia, la cosa migliore che uno riesce a dire è bello nonostante sia italiano. La speranza è di poter finalmente dire è un bel film, punto. Questo film ci arriva a dire è un bel film, punto, su alcune cose sì, su altre meno, però prima io vi parlo sempre delle cose belle, perché appunto vi parlo sempre delle cose su cui hanno fatto pendere l'ago della bilancia del mio giudizio. Il film ricalca praticamente, sicuramente il primo numero di Dampir che io ho letto e avete visto il video quando è uscito il 28 ottobre. Non so se ricalca bene anche il secondo, il secondo numero di Dampir che non ho ancora letto, ma ho recuperato questa versione che racchiude i primi due numeri e ho preso a Lucca. E ho preso la versione con Kuriak perché dei tre attori principali è il mio personaggio preferito e anche come attore, diciamo, l'ho trovato davvero in gamba. Quanto in gamba, abbastanza da farmi scegliere lui sulla copertina rispetto a Frida Gustafsson, quindi molto in gamba, ragazzi. Ripeto appunto, il film segue un attimino i primi due numeri, però ci deve anche spiegare che cos'è un Dampir. Dampir fondamentalmente ci spiega un po' l'origine del figlio di un vampiro e la prima critica che ho sentito da questo punto di vista è che potrebbe essere una scopiazzatura di Blade, eccetera, eccetera. Ma ragazzi, il Dampiro non è che se lo sono inventati quelli della Marvel, non se lo ha neanche inventato Joss Whedon nella serie Angel nella quarta stagione quando ha creato Connor. Il Dampiro esiste, è una figura del folklore, dello stesso folklore che comprende il vampiro. Esiste il vampiro, esiste il Dampiro. Poi alcuni show, come per esempio Buffy, ci hanno detto che i vampiri non possono avere figli, altri show invece non ne hanno mai parlato. Qua lo spiegano chiaramente, spiegano chiaramente la mitologia, spiegano che i maestri della notte possono appunto generare dei figli con gli umani. Questi figli però sono molto pericolosi e li devono ammazzare male, altrimenti potrebbero rivoltarsi contro i vampiri. E questi figli sono i Dampir. Però ecco, la figura del Dampiro non se l'ha inventata la Bonelli, non se l'ha inventata la Marvel. È una figura che esiste nel folklore e che ognuno può attingerci. L'originalità del progetto Marvel come fumetto e adesso come film è stata proprio il fatto di ambientare una storia di vampiri nei Balcani, nella Transilvania, non quella classica che ricordiamo noi, ma la Transilvania moderna, quella diciamo dove ci sono dei conflitti armati. E' un po' questa l'idea originale del film. E mi è piaciuto molto che si vedono queste scene durante la pellicola. Potrebbe essere anche uno che non conosce la storia, potrebbe pensare è una scusa per risparmiare un pochino sul cast ambientandolo in zone di guerra, dove sono tutti morti, dove non c'è nessuno. E quindi c'è la troupe, il cast all'interno e non c'è nessun altro, perché costano meno, ci sono meno comparse, può anche essere. Ma uno che ha letto il fumetto sa che è davvero così anche nel fumetto. E quindi questa, non dico pedisseguità, però questo omaggio, questo rispetto per il materiale originale si sente davvero tanto. E io se penso che dieci anni fa avrebbero potuto fare con la stessa sceneggiatura non originale, cioè ovvero la stessa sceneggiatura presa dalla sceneggiatura del fumetto, di qualche numero del fumetto, e qualche scamotage narrativo, potevano fare un bel film di Dylan Dogg invece di quello che abbiamo visto, mi mangio le mani, mi stacco le mani a morsi. Cioè davvero avrebbero potuto fare qualche ripresa aerea di Londra e poi fare tutti gli interni di Dylan Dogg in uno studio. Potevano aumentare Dylan Dogg a Londra senza girarlo a Londra, potevano fare il primo episodio di Dylan Dogg dove vanno appunto a Inverness, quindi vanno in campagna e non avremmo visto Londra, e potevano girare per esempio il primo film con Xabaras in un laboratorio. E il fatto che non abbiano fatto questa cosa e siano riusciti invece a farla con Dampir mi fa esplodere la testa. Ma torniamo al nostro figlio del vampiro preferito. Il film, dicevo, mi è piaciuto appunto proprio perché ricalca le origini del fumetto, sembra proprio di essere in un fumetto, nel bene e nel male, perché molte opere è giusto che siano comunque anche trasposte nel mezzo televisivo, nel mezzo cinematografico dove vanno appunto a proiettarsi. E una trasposizione troppo fedele può anche nuocere alla pellicola. Per esempio io sono uno di quelli, adesso mi pioveranno gli insulti sotto ai commenti, io sono uno di quelli che The Batman non lo ha apprezzato. Molti dicono ma è uguale al fumetto? E sì, il ritmo però in un film si sente un po' troppo e la stessa cosa accade in Dampir. Dampir ha lo stesso ritmo del fumetto, ma il ritmo del fumetto di Dampir non è un ritmo che io apprezzo ed è il motivo per cui io non lo leggo Dampir. Dampir ha un ritmo abbastanza lento per il mio gusto personale. Ed ho trovato questa lentezza anche nei tre quarti della pellicola. Però lo considero un pregio perché comunque ha seguito lo spirito del fumetto. Quindi io spero che un vero fan di Dampir ne sia molto entusiasta di questo ritmo. Quello che invece ho trovato un pochino negativo appunto da questo punto di vista è che il terzo atto lo hanno risolto, come si dice, invece in modo molto frettoloso con un power up fondamentalmente. La mia paura di questo film era che, dato che si parla di vampiri fondamentalmente, era che arrivasse fuori tempo massimo. Era che un film di vampiri nel 2022 non piacesse a nessuno. Un film di vampiri nel 2022 sapeva troppo di Underworld, sapeva troppo di Van Helsing, sapeva troppo di Twilight, sapeva troppo di tutti quei film che hanno invaso le sale cinematografiche nei primi anni 2000 e di cui adesso, se notate, non c'è più traccia e se c'è traccia non li guarda nessuno. E la mia paura era proprio questa, anche dal punto di vista qualitativo della pellicola. Devo dire che questa mia paura non ha trovato riscontro nella pellicola, quindi non è una ciofeca, cassona, super tamarra che parla appunto di scontri tra vampiri, eccetera. Però questa cosa l'ho un filino riscontrata nel terzo atto, appunto. Quindi c'è un po' di frettolosità nella risoluzione del terzo atto Ecco, questa cosa non mi è piaciuta tantissimo. Mi è piaciuto, per esempio, l'utilizzo degli effetti speciali sul campo, quindi degli effetti speciali non in CGI, ma quelli reali, quelli li ho apprezzati tantissimo, il trucco è molto bello quando si trasformano in vampiri, quando sono vampiri, quando Tesla è un vampiro, quando gli altri sono vampiri, adoro quel trucco. Non mi piacciono tantissimo le mani che si allungano, mi sembrano troppo finte, non nel senso che sembrano finte, ma nel senso che è una cosa che rende nel fumetto, ma appunto nel film io l'avrei riadattata. E invece non promuovo assolutamente appunto questa impennata di CGI nel terzo atto, dove appunto c'è proprio un copioso utilizzo della CGI per un personaggio che invece avrebbe sicuramente giovato se avesse recitato con del make-up, molto pesante, molto posticcio, ma comunque con del make-up, e se avessero utilizzato la CGI solo per la transizione. No, come in Buffy, i vampiri sono per attori truccati, e quando passano dalla faccia umana alla faccia vampira, si usa la CGI, ma non sono totalmente in CGI. Questa cosa nel terzo atto del film non succede, c'è un personaggio che resta in CGI, e non l'ho apprezzato molto. Non so perché questa scelta, ma spero che molta gente chiuda un occhio per la totalità, diciamo, della pellicola. Ma cosa ha anche aiutato a scongiurare la mia paura che questo film non fosse un film di vampiri arrivato troppo tardi? È il rapporto che c'è tra i protagonisti, tra i personaggi. Il film ha un sapore di film di supereroi più che di film di vampiri, e dato che siamo in pieno filone supereroistico, questa cosa giova alla pellicola. Nonostante Dampir Harlan sia appunto un Dampir, sia quindi il figlio di un vampiro, e debba sconfiggere i vampiri, la pellicola non sa di una faida tra vampiri, ma sa di lui che è il supereroe, che si occuperà di questo frangente. E questa cosa giova tantissimo alla pellicola. Un'altra cosa che ho sentito, che ho respirato guardando la pellicola dal punto di vista del filone supereroistico, è proprio anche il rapporto che c'è tra i personaggi. Harlan Draca e Yuri hanno questo rapporto alla Supernatural, c'è anche il doppiatore di uno dei ragazzi di Supernatural che doppia Harlan, che mi è piaciuto molto. C'è un pochino più di umorismo, più del fumetto, e questa cosa l'ho apprezzata perché spezza un po' la tensione. State tranquilli che non è l'umorismo della fase inoltrata della Marvel, è un umorismo dosato e molto carino. Un umorismo che si può trovare anche in un film degli X-Men, per intendersi. Poi appunto il rapporto che si crea anche tra Kuriak e Tesla e Harlan tutti e tre insieme mi è piaciuto un sacco. Tra tutti e tre appunto, vi ripeto, mi è piaciuto tantissimo come attore. Stuart Martin, che appunto è l'interprete di Kuriak, che è un attore scozzese appunto che interpreta Kuriak, l'ho apprezzato su tutti e tre, ma sono tutti e tre molto bravi. La mia paura per il futuro, appunto, innanzitutto, è che se faranno un sequel, io spero tantissimo che facciano un sequel, anzi sono quasi sicuro che lo facciano, ma non posso dire di più, e è già in programma, anzi è già uscito l'annuncio per il sequel anche di Diabolic. Però l'attore è cambiato. Non è più Luca Martinelli, è un altro attore. La mia paura è che sì uscirà il sequel di Dampir, ma che non ci sarà più Wade Briggs, perché non c'era la prima. Alla prima, a Lucca, abbiamo avuto Stuart Martin, David Morrison e... scusate, leggo un attimo, e Luke Roberts, che sono rispettivamente Kuriak, Gorka e Draca. Mentre grandi assenti, Frida Gustafson e Wade Briggs. La mia paura è che questi due persone, questi due attori, magari non accettano, non accetteranno di fare il sequel. Questa è un po' la mia paura. Nulla di male, eh? Il recasting si fa senza troppi problemi, però diciamo che quando c'è un recasting subito tra un primo e un secondo film del protagonista, è un po' la cosa si percepisce come... Non lo so, è una mia preoccupazione perché non li ho visti alla prima mondiale che era in Italia, ma per carità sono attori stranieri, quindi ci sta che siano molto più in difficoltà a partecipare a una prima all'estero fondamentalmente. Per quanto riguarda appunto il cattivo, che ho appena nominato David Morrison nei panni di Gorka, lo vorrei risentire in lingua originale. Non l'ho trovato suo, il doppiatore pieno insegno, non l'ho trovato adatto al volto, diciamo, di David Morrison. E in generale non lo so, ripeto, il trucco che hanno... il make-up che hanno applicato a David Morrison non gli rende giustizia. David Morrison, appunto, l'ho visto dal vivo a Lucca, è il governatore di The Walking Dead, per chi non se lo stesse chiedendo, non rende assolutamente con quel cappello lungo sporchissimo da vampiro, da leccata di mucca sul cappello lungo e cipria per farlo sembrare più pallido. Non lo rendono più spaventoso, lo rendono più, diciamo, più posticcio, più finto. Mentre l'attore in sé ha una carica spaventosa che emana, naturalmente, invece di venire amplificata dal make-up, viene smorzata, cosa che invece non si può dire di Draca, che con il make-up rende molto. Ecco, oh vabbè, Gork ormai, se sapete com'è la storia, è il cattivo del primo film, quindi non lo vedremo più, però mi dispiace che io credo che non hanno sfruttato appieno le potenzialità dell'attore, che appunto, visto dal vivo, può dare tantissimo. Invece l'ho visto un pochino, non lo so, reso un po' finto dal make-up, che l'ho reso più, non lo so, più paciarotto, anziché più temibile. Questa cosa un po' mi è dispiaciuta. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo film, io ovviamente lo promuovo, ma poi ripeto, la mia esperienza è, come si dice, è influenzata, la mia esperienza in sala, la mia esperienza visiva, è influenzata dall'esperienza lucchese. E quindi lo associo a un'esperienza molto bella, un'esperienza molto entusiasmante, vederlo insieme agli attori, eccetera. Non so, questo film in sala, o questo film sul televisore di casa, si rende uguale. L'esperienza mi insegna di no, quindi fatemi sapere voi cosa ne avete pensato, se lo avete visto in sala. Scrivetemelo qua sotto, io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video, e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto, e vi dico arrivederci al prossimo video, che vi prometto sarà, quantomeno un recap, se non un recap di Luca, un video acquisti di Luca. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.